Nel corso della nostra serie abbiamo incontrato pescatori polacchi, lavoratori nel settore della trasformazione del pesce, costruttori navali che hanno sempre meno lavoro a causa dei divieti di pesca nel Mar Baltico. C'è speranza che la situazione migliori nel prossimo futuro? Assolutamente, ma dobbiamo prendere provvedimenti. Provvedimenti che naturalmente tengano conto non solo dell'impatto ambientale, ma anche di quello socio-economico. Dobbiamo trovare un modo di aiutare la nostra comunità di pescatori e coloro che si trovano lungo la catena di produzione a restare in attività. Perché alcune decisioni sono dolorose. Quando siamo stati allertati dal crollo degli stock di merluzzo nel Mar Baltico abbiamo dovuto agire. Ma mi fa piacere vedere ora che alcuni stock si stanno ricostituendo e già nel prossimo consiglio avremo qualche notizia positiva. Purtroppo alcuni stock restano in una situazione pericolosa, quindi naturalmente dobbiamo assumerci la responsabilità. Perché alla fine se in questo luogo la biodiversità e gli ecosistemi funzionano pienamente, se abbiamo buoni stock ittici in via di recupero, avremo più posti di lavoro, avremo più quote da distribuire. Ma tutto comincia con il prendersi cura di questo luogo e lasciarlo in pace.